Intervenendo alla trasmissione Stasera Italia, il sindaco Raggi mi ha combinata una più grossa del solito. Ha detto che i romani sono preoccupati soprattutto per l'aumento delle bollette. Io prometto che se sarò eletta, compenserò gli aumenti delle bollette per i più indigenti con i soldi della CEA. Ora la CEA non è una società tutta controllata dal comune, ha anche una quota di azionerato popolare ed è quotata in borsa. Un sindaco in fase di rielezione non può promettere i soldi di una società quotata in borsa se sarà eletta. Dovrebbe intervenire la Consul su questo. La Raggi non si accorta neanche di quello che diceva, oggi glielo faranno notare. A mio avviso dovrebbe intervenire la Consul su questa cosa. Io non mi sento nemmeno di commentare una sciocchezza così grande. Potrei solo citare Franco Battiato, una sua canzone molto importante in cui scriveva «Misera è la vita negli abusi di potere». Sottoscrivo. Buona giornata da Paolo Ligoni.